Non giudicate. 4 maggio 1978. Figli di Letti, sia pace a voi. Sono Gesù di Nazareth, qui con voi per istruirvi affinché, nella pratica della mia legge, possiate meritare di essere chiamati i miei seguaci. Dissi un giorno. Non giudicate e non sarete giudicati. E ancora. Come potete togliere il fuscello dall'occhio di un amico, se non togliete prima la trave che è nel vostro? Su ciò vi invito a riflettere e a decidere prontamente. Le creature umane sono tutte soggette, chi da un lato chi da un altro. Ha qualche imperfezione, così che nessuno può credersi perfetto e presentarsi agli altri come modello. Tutti hanno invece bisogno di essere capiti ed aiutati nelle loro debolezze. È in questa comprensione e in questo aiuto reciproco che si raggiunge l'equilibrio e che si riesce ad instaurare pace ed armonia. A tal fine ciascuno deve anzitutto rendersi conto dei propri limiti e dei propri difetti. E impegnarsi in una coraggiosa revisione di se stesso che gli consenta di far fronte alle proprie cattive inclinazioni e di evitare quelle colpe che offendono Dio e il prossimo. Solo allora potrà, con quella carità che è richiesta a tutti, richiamare e correggere gli altri. Certo è difficile vedere i propri difetti, poiché davvero, come dissero certi sapienti antichi, la bisaccia delle proprie colpe l'uomo la tiene dietro le spalle, mentre quella delle colpe altrui la porta davanti agli occhi. Voi, però, misuratevi con colui che è vostro modello perfetto. Puntate ad assomigliarmi e a fare ciò che io farei al vostro posto. In un confronto spassionato ed umile vi sarà facile riconoscervi per quel che siete. Le virtù cristiane sono molte e ciascuno, secondo le inclinazioni, le grazie ricevute, l'educazione avuta, si sente più o meno portato verso una o l'altra. Ciò fa sì che taluni si distinguano in ciò di cui altri sono privi. Queste differenti inclinazioni e modi di intendere e di vivere non devono creare antagonismi, ma sollecitare la carità. Il desiderio di migliorare se stessi e di camminare per la via della santità deve essere in voi più vivo e più sentito di quello di richiamare e correggere gli altri. Diversamente, sarebbe un pretendere dagli altri ciò che voi stessi non potete né dare né fare. Su questa linea di umiltà e di carità sarà molto più facile conseguire anche quella pace familiare, che, se è sempre auspicabile, è spesso solo nella pazienza che la si costruisce. Vi è però un dovere che riguarda soprattutto genitori, educatori e superiori, in forza delle particolari responsabilità del loro stato. Se il dovere del proprio perfezionamento è uguale per tutti, coloro che sono chiamati a sovraintendere agli altri hanno l'obbligo morale di intervenire quando la situazione lo richieda. Guai se i genitori dovessero tacere sempre e lasciassero correre ciò che non è bene, aspettando di essere perfetti. Occorrerà dialogare e dire e far rilevare il punto della legge trascurato, e dovrà esserci insieme l'impegno di tutti per migliorarsi. Così gli educatori dovranno correggersi per correggere, ma sarà un lavoro compiuto in sintonia, se non si vuol correre il rischio di mancare ai propri doveri e di non riuscire ad educare. Figli. I cristiani che seguono la mia scuola devono divenire maestri degli altri con la parola. Ma soprattutto con l'esempio. Devono saper vedere e valorizzare nel prossimo quelle virtù di cui nessuno è privo, per aiutarlo a migliorarsi e scoprire invece in loro stessi, a costo di far soffrire l'amor proprio, tutti i difetti presenti, in modo da eliminarli. Vi ho detto di non giudicare e vi dico ancora di essere misericordiosi. Con la stessa misura con cui misurate. Sarete misurati. È perciò nel vostro interesse che abbiate sempre a moderarvi nel formulare i vostri giudizi. Un giudizio analogo sarà pronunciato su voi dal Padre. Badate che non sia a scapito vostro. Capire. Perdonare. Usare misericordia con tutti. Fanno dunque parte anche dei vostri interessi personali ed eterni, per cui non potete trascurarli. Io mi metto al vostro fianco, perché possiate combattere la santa battaglia che dia morte ad ogni egoismo, ad ogni mancanza d'amore e perché possiate farmi veramente regnare nei vostri cuori, nella vostra famiglia e nel mondo. La pace che vi do sia custodita ed amata veramente come un dono divino. Vi benedico tutti.